GF VIP, Edoardo Donnamaria in ospedale dopo il papà, ha dato tutto, sta bene. Edoardo Donnamaria ricoverato in ospedale dopo la squalifica dal grande fratello VIP. In queste ore, il papà del giovane concorrente di questa settima edizione delle reality show ha postato sui social uno scatto che non è affatto passato inosservato tra i numerosi fan. Pur non spiegando il perché e i motivi di questo ricovero, il papà di Edoardo ha voluto comunque tranquillizzare tutti i fan. Spiegando che non si tratta di nulla di serio. Nel dettaglio, lo scorso giovedì sera Edoardo è stato squalificato dal cast del GF VIP per aver violato le regole della trasmissione. I suoi comportamenti fin troppo eccessivi nei confronti di Antonella hanno infatti spinto la produzione delle reality show ad intervenire e a procedere con la sua espulsione definitiva dal cast. Ebbene, in queste ore Edoardo è riapparso sui profili social del padre in uno scatto che ha in parte allarmato i suoi fan. L'ex concorrente del GF VIP è stato immortalato in questo scatto che lo ritrae steso su un letto d'ospedale, con pantalone tuta e senza maglia. Un ricovero di cui, però, non sono stati svelati i motivi anche se il padre ha confermato che va tutto bene. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dallo stesso Edo. Ha dato tutto fino al novantesimo, ma sta bene. Tranquille, ha scritto il papà di Donna Maria rivolgendosi alle numerose fan social. Intanto, tutti i fan che speravano di poterlo rivedere nello studio del grande fratello VIP durante le prossime puntate serali delle reality show, resteranno profondamente deluse. Alfonso Signorini, al termine dell'ultima puntata serale del programma, ha già confermato che Edoardo non potrà partecipare agli appuntamenti in prime time dopo la squalifica che ha messo la parola fine alla sua esperienza nel cast, ad un passo dalla finalissima. Intanto, la sua fidanzata Antonella Fiordelisi continua a sfruggersi all'interno della casa di Cinecittà. Questi giorni sono stati particolarmente complicati per la giovane influencer, la quale non ha nascosto la sua sofferenza perché sostiene di sentire forte la mancanza del fidanzato. Edoardo, però, l'ha subito tranquillizzata e qualche giorno fa si è presentato in piena notte fuori dalla casa del GF VIP. Armato di megafono col quale ha confermato il suo amore verso Antonella e le ha promesso di aspettarla fuori per riprendere in mano le redini di questa tormentata storia d'amore che, tuttavia, ha saputo appassionare il pubblico delle reality show. Nici un curcubeu, da' ce că toate astea-s doar în capul meu Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă Încrăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus Poți să sari sus, sus, sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus Pot eu să sar Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns Pot să mă sus tot